Mi presento, sono il dottor Tommaso Ferretti e dirigo dal 1980 il centro fisiosport di Macerata. La nostra preoccupazione è stata sempre di avere la tecnologia allo stato più avanzato. Siamo stati i primi nelle marchi ad operare l'eude d'urto. Siamo i primi e ci vantiamo di aver sperimentato il LifeSteam, con le quali abbiamo avuto degli ottimi risultati nelle più varie patologie. LifeSteam è una nuova metodica di terapia basata sulla erogazione di neurostimoli specifici. È stata studiata per superare la vecchia maniera di praticare terapia antidolorifica che si svolgeva fino ad oggi con l'erogazione di correnti, spesso ripetitive, che andavano più a mascherare il dolore che non a curare la vera e propria patologia. LifeSteam ha la caratteristica di erogare degli impulsi che sono variabili nel tempo per ampiezza e frequenza. Questo porta a una migliore risoluzione del problema dolore in quanto l'organismo non si abitua all'erogazione di stimoli ripetitivi. Le patologie che trovano miglior riscontro con la terapia LifeSteam sono essenzialmente tre. Le radicolopatie, la traumatologia sportiva e le patologie di tipo vascolare. Nelle radicolopatie abbiamo fatto uno studio con un numero consistente di pazienti e abbiamo visto che oltre il 50% dei soggetti trova aggiungamento dalla terapia con le dieci sedute che normalmente andiamo a fare. Nelle lesioni di tipo sportivo la caratteristica di LifeSteam è quella di risolvere in maniera molto rapida il dolore, ma soprattutto di risolvere in maniera anatomica la lesione vera e propria. Il terzo campo di azione della LifeSteam è sicuramente quello vascolare. Parliamo di vasculopatie, soprattutto di tipo diabetico, ma anche di altra natura. L'effetto principale di LifeSteam è quello di stimolare la neoangiogenesi, cioè la riproduzione di nuovi vasi che vanno sia a riparare una ulcera difficile sia a ridare una miglior sensibilità dovuta a un miglioramento della circolazione degli armi.